Spuntano due nuove discariche abusive all'Aquila, in via Sanzisto e in via Anticarischia. La prima nel piazzale interno delle palazzine Ater, ancora terremotate, ma al ridosso di case già aperte e riabitate. Viene utilizzata specialmente nelle ore notturne per gertarvi qualsiasi cosa, come segnalato da alcuni residenti, dai materassi ai giocattoli a pezzi di mobili, tra erbacce, aria malsana, alberi che crescono malati. Con tutta probabilità in un'abitazione qualcuno è entrato per dormire o rubare. Sempre in quel punto, prima che il comune, cui spetta la manutenzione, provvedesse tempo fa a pulire una vecchia discarica, i residenti avevano trovato anche diverse siringhe usate. La seconda discarica si trova in via Anticarischia, a pochi metri dalla sede Ater e dalle palazzine sia ricostruite che ancora terremotate. Anche qui, come nel caso di via Sanzisto, è possibile notare tra garage sfondati e auto parcheggiate rifiuti di ogni tipo.